Oggi avete avuto la visita dell'ufficiale giudiziario, ma lo sfratto è stato spostato il 27 di settembre. In vista di quella data, che cosa chiedete? Allora, ci diamo aiuto, che ci aiutano a darci la casa, perché veramente ne abbiamo bisogno. Perché noi siamo in tanti, siamo nuovi in casa, ci sono i minorenni, anche i neonati, anche ci sono i ragazzi, però non lavorano, perché adesso è un po' difficile, studiano anche, non trovano anche lavorette da fare. Quindi chiediamo solo questo, perché veramente abbiamo fatto di tutto. Ho chiesto due anni fa di vedere anche il sindaco per non arrivare a questo punto. Non mi hanno mai dato l'opportunità di vedere il sindaco. Oggi ho chiamato voi, perché ero molto disperata con i miei figli. Quindi chiedo aiuto. Perché loro, nel frattempo, che tipo di soluzione vi hanno proposto, visto che dovevate lasciare casa? Ecco, ci hanno proposto, non so se ci sono degli appartimenti o cosa sono, però sono andato lì a vederla. È il centro di prima accoglienza di via da Giustano? Ecco, è quella. Erano veramente per noi due buchi, che sarebbero ogni buco quattro persone. Senza cucina, senza niente. Dobbiamo cucinare con una bombola di gas. Per me è pericoloso. Se eravamo tre o quattro va bene, ma a nove persone non possiamo starci lì. Io veramente piuttosto... Perché voi vorreste rimanere comunque tutti insieme? Insieme, ecco. Ok. Grazie. Grazie.